Gentili telespettatori, buona giornata. In Italia c'è anche chi cerca 60 autisti di camion a 3.000 euro al mese e non li trova. Intanto bisogna capire se i 3.000 euro al mese sono lordi o netti. Fa una enorme differenza. Sa che rischia di vedersi sommerso dalle candidature, chiede il giornalista, questo imprenditore, dice magari, lo spero, guardi che io di questi 60 autisti ho veramente bisogno. Contratto della logistica, tutto in regola. Lo scriva. 9 ore al giorno per 5 giorni. 3.000 euro netti al mese. Insomma, parliamo di netti. Gerardo Napoli, 49 anni, parla al telefono dalla provincia di Salerno, dove ha sede l'azienda della logistica di cui è amministratore unico, la Napoli Trans. L'allarme è sollevato ieri dal sole 24 ore sulla mancanza di autisti e camionisti. Non lo stupisce. Anzi, la mia azienda consegna alimentari alla grande distribuzione. Siamo arrivati a 80 milioni di fatturato, ma potremmo farne di più. Il nostro giro d'affari è limitato dalla mancanza di personale. E beh, ma per fare il camionista, dice l'imprenditore, ci vuole la patente. Per prenderla servono 6.000 euro. Circa e sei mesi di studio. E beh, insomma, 6.000 euro e sei mesi di studio. Quasi viene fuori una laurea. Anzi, costa forse meno studiare all'università che prendere la patente da camionista. Beh, l'imprenditore dice dovrebbe essere magari lo Stato a finanziare queste patenti. Ma probabilmente per chi fa queste patenti bisognerebbe fargli gratis e poi dire, guarda, i 6.000 euro me li ridai in sei anni dal tuo stipendio. Ecco. Poi, se questa persona perde il lavoro e non fa più il camionista, pazienza. Lo Stato ci avrà perso qualcosina. Ecco, visto che regaliamo soldi a destra e sinistra, bonus monopattini, biciclette, televisori, forni a microonde, allora per far fare la patente a chi vuol fare il camionista si può anche fare. Naturalmente però sei mesi di studio mi sembrano un po' troppi. Cioè un investimento di sei mesi per andare a fare il camionista, beh, non so, vedete un po' voi. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.